Un saluto ai clienti di Escavo Shop, in questo video vi presenteremo un hub, un moltiplicatore di porte USB da 7 porte, vediamo un po' il blister, ecco che cosa contiene. Abbiamo le 7 porte, ecco qui, è un moltiplicatore di tutti gli effetti, abbiamo 5 porte su questo lato e altri 2 porte su quest'altro. Abbiamo in pratica l'attacco per l'alimentazione perché l'hub è alimentato, esternamente non viene alimentato tramite porta USB perché con alimentare 7 porte effettivamente la porta USB non riesce ad andare in attacco. Abbiamo una casetta dove in pratica è possibile riporre il hub per farlo stare in modo diritto. Abbiamo un alimentatore da 0,5 A per quanto riguarda l'alimentazione, il giusto necessario per alimentare il hub, il moltiplicatore da 7 porte USB e abbiamo il cavetto che vi permette di andare a collegare l'hub tramite la periferica USB. Parliamo ecco di una periferica USB 2.0, quindi ecco il trasferimento di dati è effettivamente veloce e è un moltiplicatore di quanto riguarda tutti gli effetti, quindi ecco potete collegare contemporaneamente tutto quello che in pratica volete. Bene, detto questo abbiamo plug and play, quindi ecco non c'è bisogno di dischetto per quanto riguarda l'installazione, basta collegare semplicemente la periferica USB al computer, basta che il computer riesca a riconoscere la periferica e già da quel momento in poi è funzionante, è compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi, Windows 7 on premium, Windows vista, è compatibile con l'XB e niente ecco, effettivamente è molto comodo, molto contenuto anche nelle sue forme, molto carino, ricoperto in pratica da uno strato bellutato. Niente, ecco qui. Bene, detto questo e ho concluso, ringrazio tutti i clienti di Escamoshop e vi do appuntamento alla prossima.